Il sound up si può anche interpretare come un sogno, un sogno mio, ma anche un sogno che magari è condiviso dalle persone che fanno parte di questo festival. Finché un festival di questo tipo sia sostenibile devi avere il programma perfetto, il posto perfetto, dopodiché magari il pubblico arriva. Devo dire che ci stiamo divertendo parecchio. Questa cosa è più bella. In quegli anni ho visto che è cresciuto, quest'anno l'organizzazione è il mondo più valido. Una bella manifestazione, ci si diverte. Secondo me è una realtà che se è presa bene crescerà. È una esperienza davvero bella, anche se è molto stressante. I volontari sono il festival. I volontari sono tutto. Il festival si regge quasi tutto sui volontari. Quando mancano i volontari si blocca tutto, si blocca la macchina. Senza parole, sono dei grandi. Devo ringraziare quei ragazzi lì, Leo e Massimiliano che ci siamo divorzati a fare. La francese Mariam. Sto lavorando per la creanza degli artisti e anche la comunicazione con i media e i web sono i francesi. Ma io, io, cioè, non so se vuoi farmi qua. E per ciò che abbiamo fatto, ci voglio un'azienda è molto fece la mia. A questo quale è la mia. Grazie per la visione!